ciao a tutti benvenuti su overwatch sono qui con Keyless e siamo sulla mappa hollywood e questa parte non è stata assolutamente preparata in anticipo ok sarò uno support vai disegnata con la tua skin orrenda vai quanto è cool è cool molto cool molto cool direi troppo se vengono più di fissi d'attacco non solo un pampampi sito dai dai metti se l'attacco spero un attimo che mi metto a lucidare il vetro perchè un po' sporco oh cos'è? lucidiamo le stick puliscilo un po' sporco qua spero, 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 cos'è che è dietro? ma, ma sono baceri ah tolti è mastro lindo questo ha pure la calvizia calvizia in ando sto servendo il panorama sembra che si è messo lì a posto guarda guarda che si è messo anche in posto guarda cosa ti ha lasciarmi sta simpatica? eh eh tanto di sicuro è un uomo di 40 anni esatto, con la baba alla bocca disoccupato obeso che ha lardo che gli esce dalla sedia un po' come te ho utilissimo quella trissera è morta rip c'hanno cadrede che simpatici eh che si mette a rashare mamma mia giustamente è hanno un soldato non sono più più simpatici di così ma non si può eh una mei e un soldato che bello e mei e un bastion mei mi ha ucciso a 10 km distanza ma perchè lì al poti? perchè scrivono su chat pubblico e basta? bohg basta e poi lo riprendo no no vai SU CAR MEI Stanno dietro di te! Bene. Guarda son davanti. Bene. Watch out, watch out! C'è vasto in sopra, chiate che li uccida. No, c'è... E' bellissimo farli esplodere! Io sono al top of the world. Ma se non ti ho sbagliato! No, invece, io ho messo le monte, cazzo! Cazzo, era il meno male che ho messo il muro. Ma che nemmeno quanto? Fuck, fuck, fuck. Torretta di mer! Quello era un busto, non era una torretta. Sì, torretto di mer. Io ho l'ulti. Ulti! Oddio, una Widowmaker, mi ha tagliato l'orecchio. C'è una torretta sopra. Ce ne erano una torretta sopra. Komodo! Vieni dietro vieni dietro, perché io tipo ahH someone... ah Esto facendo il pollo. No, non ho anche una Anzusi qui. Eh, che mi sta uccidendo. Non c'è nessuno! Eh, sopra il tetto! Mori farm. NO! Minchia guarda quale è! Beh la ultima! Anch'io ho usato i ulti per paura però... Un inutile Cazzo... Oh eppure fuori dal... Dall'armatura di Reynard eh Eppure ci ha ucciso tutti Vabbè... Questa è parese skill Ecco Perpetition is the path of mastery Perpetition is the path of mastery Ti hai premi di tira trappola Tra 5 ore arriva 5 euro 5 ore Perché sei spawnato davanti a me? Esatto, io sono spawnato di... Made in merve E' morta? Si si No, no cattiv- No! E' morta, mi ha portato il mento Cazzo Cazzo 4 gold medal Noi sei? In paradiso Eheheheh Allora facciamo un sondaggio Ok Perché si Perché il sondaggio Come fai a essere... Ah abbiamo... Che Ma perché? Muoglio subito! Appena spawno muoio! Muoro Muoro? Vuoi che muoro? E' palese? Ma vattene a fare incubo Non ho preso manco la... Incubo Stammi di fianco così ti posso dare la via... Ah ok te l'ho già da... Ma abbiamo anzo... Abbiamo... Abbiamo anzo dietro! Lo so! Eeeh uccidilo! Come dovrei farlo io? Ho ucciso io! Ma perché? R-resti in peperoni! Che palle! Eeeh Però ho ucciso da moro! Ho ucciso da moro! Ucciso da moro! Ucciso da moro! Ucciso da moro! Ciao! Ciao! Quello ha fatto una quadrupla così a caso! Ma muori tracer! Ho la ulti! Di sicuro farà tantissimo! Anch'io! Vai! Non sei riuscito nemmeno a uccidere Reynard! Ma io non... Ma io non... Ma mi ha giuso me! No! Ma sei morto di nuovo! Che palle! Bella partita eh! Bellissima! Non potevamo prendere quella prima eh! Ooooooh! No! 0.3! Ah ok bravi ragazzi! Pioli! Ander su! Ander su! Ander su! Guarda che figo il mio zini alta! Uba di ule cosa gli scrivi! Ma sei senza colori! Come fai a vedere? Elmo! Ah è il suo mega ulti? Che culo! Come hai fatto a beccarti? Ma come... Ma che ulti è? Ma lo so sarei Anzu come se... Specchi level 2! Bells ult! MVP serve! Ehm... 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 Dai prendiamo il leggendario! Non posso! Seppia! MVP! Attenzione! Ehm... 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 Che cacchi e rosa siamo noi! Che be... No te sei diversa invece! Ehm... Ehm... Io ho la più bella! Sono in 3 rosa! Ho la mia leggendaria qui di su! Non facciamoci vedere così non sanno che siamo tutti D.Va! Ti facciamo fuori dall'angolino 300 D.Va! No! D.Va! Guarda tutti che andritti! Perfetti! Quello che io non so usare D.Va, però lo uso Dovrebbero aumentargli il danno a D.Va però È la prescindione più che altro Sì, il fatto è, o gli aumentano il danno o gli diminuiscono la rosa dei colpi Sì, perché adesso, cioè, in culonia non riesce a beccare nessuno Guarda, quello non è in alto Eh, lui è già pronto a fare i culi Noi tutti li a sparare C'è un Junkrat lì sotto Perché non riescono a passare? Ma loro sono tutti Junkrat No, sono tre Junkrat Minch, me lo hanno già tolto No, sono tutti Junkrat No, poi c'è Guarda Eh, vabbè, poi c'è Zaria che rovina la vita tutti È il lusso della situazione No, abbiamo un soldato È il soldato della situazione, allora Perché è il soldato? Perché? Ma ci stiamo divertendo No Cattivo soldato La mia vergogna Il buonello Mi sarà un casino quando nessuno avrà più un mecha Sono l'unico col mecha adesso No, adesso sono ritornato anch'io Cazzo Sì, l'ho visto, ti ho visto che sei morto Burtelmi Minchia, però Vieni Tiene uno dietro Lo so Io penso a quelli davanti No, è stato di vita È morto Con un colpo Vabbè No, perché Farah? Ma che noio Palle, ce ne stanno togliendo tutti Fuga Hai adesso un mecheri Un po' indeciso Minchia, hanno usato due ulti Hanno usato due ulti Stai attento Aiuto Non, 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 non Perché Cazzo Challenge Dai, stiamo counterando bene Counterando? Sì Volte che torbiono, ok Ma adesso lo dici, torbio? Giustamente, così a caso Ebbene, solo lui l'ha preso E vabbè E io muoro Vuoi che muoro? Vabbè A stupunto cambio anch'io Cazzo Vabbè dai, cambiamo Aiuto, aiuto, aiuto Farah, 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 farah Brava, farah Minchia, quanti fai Minchia, che palle Ma sempre Ma sempre addosso a me vengono Questo è il problema Un bravo forza Eh sì, infatti I Torbia I Torbia Spero di Torbia, non lo sapevi Cazzo ancora i personaggi Minchia Vai, uso anch'io Ripper, dai No, anzi, uso Uso Lucio Perché è troppo su Epo Sembra un attimo Solo lui l'ha usato Poverino Adesso cambiare di nuovo idea Dicendo All Reinhardt O Reinhardt Poi ho il tiro In due secondi cambia Stai qui, muore e cambia personaggio Esatto L'indecisione di questo C'è un C'è un C'è un Junkrat C'è un Junkrat nella nostra base C'è un Junkrat nella nostra base Comunque Ma infatti stanno veramente vincendo Con tutti i Junkrat Che forte è sto team Porca, mi è arrivato un missile in faccia Eh Rip Nei peperoni Reaper nei peperoni Ti sei Rippe Peppe Arra quanto sei tranquillo Lui che fa le sue scampagnate Ma dai Ti hanno ucciso Minchia ogni otto seconda non l'ultisti qui Ma si appunto Adesso mi prendo anch'io Junkrat No non è vero Eh volevi La partita è fantastica Sai che abbiamo Junkrat ovunque noi Il nostro spawn siamo pieni di Junkrat Non è vero Si fuori dallo spawn Eh fuori Eh vabbè tutta cosa Eh vabbè dentro fuori Questa roba Porca boia Bella ulti complimenti Hai volato un Junkrat No 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 cattivo ragazzo Buono Ma che palle troppo forte Junkrat Adesso boh cambio in Junkrat No appena uso la ulti cambio in Junkrat Cazzo ero là Stiamo veramente perdendo Ma basta Che palle ogni due secondi Venite più in qua così io ho l'ulti Cazzo Ok Io ho l'ulti Sto messaggio Vabbè meno male Almeno non è meno No non ci credo Basta Dai non ci credo Sempre Basta Eh va bene Io sto morendo sempre Per ste cacchio di ulti 60 secondi Non ci credo Io ho l'ulti se stai a tutti i vicini non la uso anche io avrei la ulti sei minchia che bell'ultimo inutili fuck c'è un ti ho visto esplodere bello meno male che non lo sono io ma ti ha sfiorato si vabbè con Reaper però te le puoi parare un po' le ulti no perchè apparentemente sanno quando usarle minchia ti ho appena visto morire quante granate passa ogni due secondi davvero davvero un'altra non ci credo ma no è impossibile cazzo ogni due secondi ce li hanno cioè dobbiamo stare sopra basta basta che palle adesso hanno pure una Widowmaker oh meno male oh non fumise un Widowmaker che non sa sparare mercoledì ci saranno sette lecce palle palle oh stiamo discendendo un minuto e venti dalla fine ok perfetto che ho fatto no un istone di merda muore muore però un istone sono stato stuprato è una barona è appunto ho io l'ulti no su che Genji però io volevo uccidermi ho visto guarda 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 Genji che viene erettato male no no oh Dio sta per morire Genji che viene erettato male quella ulti aveva un non so che di magico porca bestia no basta giustamente ne avevano stati troppo pochi mi viene addosso a me guarda 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 no non ci credo ma sempre addosso a me le ulti cazzo 8-10 saremmo tipo 7 morti ma che fai palle 15 secondi c'è la fine fantastico ! Viva! vingvi vingvi no non ci credo vabbè tanto abbiamo vinto e guarda che muoio alla fine guarda che muoio alla fine guarda che muoio alla fine guarda sono morto alla fine non ci credo play of the game di sicuro di un Junkra va 3 far Fido Ti porto L'osso 1, 2 Ti porto l'osso Spero che il video vi sia piaciuto E alla prossima Ciao